salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo su dissidia fan of fantasy o per omnia versione giapponese questa volta perché si pulla per beatrix ebbene si beatrix torna all'interno del gioco torna con la sua ld un ld molto molto valida migliorata tantissimo anche lei diventando addirittura una dispeller dandole addirittura un attacco in follow up simile a macchina che addirittura le consente di rimuovere i buff ai nostri avversari però ovviamente non tutte diciamo non è tutto oro ciò che luccica perché purtroppo non migliora la sua aura o per meglio dire migliora la sua statistica per quanto riguarda l'attacco per quanto riguarda la max breveri dato che ogni limit break dell'ld conferisce 20 per cento di attacco e 10 per cento di max breveri solo a se stessa però quindi non al party è un peccato perché sarebbe stato molto molto p se avesse addirittura influito su laura laura rimane lo stesso 45 per cento in attacco poi 30 per cento se non erro in max breveri quindi diciamo che fondamentalmente resta una buona tutto sommato una buona percentuale oggi si pulla senza aver diciamo diciamo avendo scordato addirittura che io in global avevo già beatrix quindi non ho bisogno di pullare anche sul global si pulla infatti soltanto sul jp oggi abbiamo ben 226 ticket e ovviamente andrò ad utilizzarne almeno 50 70 diciamo vediamo in base alla mia fortuna spero di poterlo ottenere presto anche perché beatrix non ce l'ho viola sul jp purtroppo quindi dovrei maxarla da zero anzi 15 35 ce l'ho maxate la ex ho dato solo il libro quindi mi mancherebbero teoricamente lingotti forse per poterla portare su ma vediamo cosa succede intanto cerchiamo l'ld il resto si vedrà detto questo vi auguro buona fortuna auguratemi buona fortuna io direi che possiamo cominciare con i pull io direi che possiamo cominciare con i pulli per Я non c'errassare con i peli Grazie a tutti. 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 Lo avevo chiamato. Grazie a tutti. Sono davvero felicissimo. Dai Beatrix. Dammi le LD e concludiamo. Grazie a tutti. 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 e... Mi fermo qua. e...